Per la tua felicità fai ritorno a una sfida di costruzione di parkour e puoi fare il parkour Perché? Perché hai sempre vinto e quindi io mi sono messo lì a pensare a un modo per batterti In tutto questo tempo Stef stava pensando Sì, ho 80 mesi e tu hai pensato solo a quello che non è vero Stef, non è vero Allora, ognuno avrà un suo quadrato dove costruire il proprio parkour Ok, questo sarà ovvio Dopodiché, come sempre, ci sfideremo e chi ci metterà meno tentativi a completare quelle dell'altro vincerà Le regole rimangono le stesse, solo che davvero ho un piano per batterti e non sto scherzando Ho davvero un piano per batterti Sì Stef, l'hai detto anche l'altra volta con le case segrete Appunto, io guarda che Ti dici ogni volta e perdi Avremo almeno 5 video di sfide di questo genere e non ho mai vinto, neanche una volta Quindi, sai E pensa che io parto convinta di perdere, perché io solitamente sta roba la perdo pure Quindi non lo so Ma contro chi li hai perse se hai sempre vinto Non lo so Stef, evidentemente sono molto fortunata in sto periodo Cioè, c'è qualcosa, capito, che mi rende molto fortunata Allora, 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 allora Ho una strategia Ok E l'atto ero, che poi è quella della miniatura Io non so Lo so Che miniatura faremo Stef? Lo so cara Allora, facciamo che si partirà così E poi sarà costantemente così Ma perché abbiamo anche il jump boost, mio caro Stef? Perché puoi creare delle parti che sono impossibili senza quella pozione E mettere che c'è una chest che devi aprire Berti la pozione e poi continuare a fare i salti Ok Volendo, you can do this Interessante, no? Quanto si salta in più? Eh, mi sa un blocco in più Non sono un grande esperto Ok, ok Perché la uso raramente Vabbè, facciamo che faccio un blocco in più rispetto al salto normale Perché non sono tante le pozioni Quindi se le spreco tutte Poi come faccio a farti provare i salti? Certo Vito Povera Fere Raga, avete capito? Sì Ok No, Stef, fammi vedere Vengo a vedere Dai, Fere Non rompere Vai via No, non mi piacciono queste robe Che stai facendo? Che stai facendo? È la mia tattica Stef, che stai facendo? È la mia tattica Che tattica è? Cioè, che cos'è fare un cerchio di pilastri? Che tattica è? Capirai Solo vivendo Comunque guarda che è a tempo la sfida Quindi vedi di muoverti Invece che venire Ci metto il tempo che mi serve No, non funziona così Sì, Stef Sì, allora ti creo un parkour da 72 ore e vinco Non risponde Faccio quello che voglio Non fai quello che vuoi Sì che faccio quello che voglio Non fai quello che vuoi Allora, lo devo creare abbastanza Fammi vedere qua tutto Vediamo Delle scale Del vetro Ok, raga Allora Ci siamo Adesso Let's go Cosa prendiamo? Vediamo un pochettino Facciamo Per ora prendiamo questo Non mi hai dato un'ascia, Stef? Ah Tipo per rompere le cose Se sbagli a posizionarle E diventa un po' noioso Eh sì Eh, mi spiace Un po' più lungo Perché ridi? Perché sei uno scemo Ma quello lo sapevi già Allora, ok Non c'è nulla di nuovo, Fer Quindi questa cosa Nulla di nuovo Allora, facciamo da qua Questa la rompiamo Che sennò poi ci dimentichiamo Di togliere la Fer Se ne approfitta E potremmo fare Tipo Pensate l'ansia che può venire? Sì Ok Ok Poi facciamo tipo così E così Io continuo venire a sbirciare Che vuoi? Che te lo fa? Ma che vuoi? Sto facendo il percorso Sto qua scemo Sto qua Cosa vuoi? Ho diventato scemo Non sono diventato scemo Sì che secondo me È una tattica vincente È una cosa che ho notato E che voglio sfruttare Anche perché è tutto basato Su quanto ci mettiamo Quindi il mio limite È soltanto Il tempo in cui anche tu Ci metti per preparare Il tuo parkour E aggiungo che non può essere infinito Sì che sarà infinito No, vedi di muoverti No, infinito Muoviti Allora, poi Dove possiamo andare? Potremmo fare Che poi si va Questo è bello, raga Tipo Ta, ta, ta Ho sbagliato Allora, vediamo se uso un jump boost Ho risbagliato Si può fare Secondo me Ok, perfetto E noi mettiamo tipo così Allora, da qui tu devi fare Ui Dai Ma What the hell? Non ho capito cosa è successo Allora, riproviamo Ui Perché non ha grappa? Ma C'ho le ladder bagate Ui Le sto prendendo in pieno Perché non ha grappa? Cioè così le prende Sì Ok È così ma È così è anche È molto concentrata io, Steph Vabbè Può andare bene così Fare non mi interessa Allora A questo punto Noi E questa è una figata, raga Facciamo Tipo una roba del genere Ok Qua Mettiamo una cosa particolare E potremmo fare Che qui questo non c'è E quindi voi non potete farlo Esatto Ok, sì Quindi è ta 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 Tac ta Ta Ok, mi sta piacendo Perfetto Guarda che non è ancora molto tempo Ok Vedi di muoverti Boh, non so che sto facendo Ma quello L'importante è che vinca Steph In questo video È tutto un video fatto per farmi vincere Allora, per un salto c'è bisogno del jump boost Però poi non ho capito Se l'altra parte poi risulta troppo più semplice Hai capito? Eh no Tu devi fare tutta una fase col jump boost Considera che comunque dura un minuto e mezzo Non dura tanto No, allora lo elimino Ok Troppo Troppa roba Allora Ah, però io ho fatto Anzi, sinceramente Qui secondo me ti Ti debaffa il jump boost Invece Perché i salti se poi sono troppo lunghi È difficile Calibrarli, no? Vediamo Non lo so L'importante è che vinca Steph Allora Poi cosa mi manca? Il ghiaccio Continuerò a ripeterlo Per zitto Allora Ci beviamo questa Così riusciamo a risalire da qua Perfetto E qui questo salto Sì Come pensavo Seppo fa Quindi noi mettiamo Qui un bel po' di queste Ok Un po' ce le teniamo E quindi praticamente si arriva qua Poi si fa questo salto Dopodiché Ero curioso di capire un'altra cosa Tipo Così Se può fa Immagino di sì Che ansia Sì? Oh mio Dio è molto figo Poi facciamo Che c'è questa fase Ah quindi questa Anzi proviamo a farla così Se magari così riesci poi a farlo No Non va bene Oggi sono in forma Oggi sono in forma Ho decine volte che perdi Steph Ma poi non voglio fare cose strane Cosa? Io non la volevo neanche fare sta sfida Mi dispiace E che tu perdi sempre E mi costringe a rifarle Solo quello Ma infatti Potresti lasciarmi vincere E basta No? Probabile che oggi lo farò Ma Sto cercando scuse Perché Steph ha fatto qualcosa di too good Anche se non lo vede Mi è incasinato con questa cosa del jump boost Arrangiati Poi non usarla Vedrai tu come risolvertelo Non lo so Ho fatto un salto troppo lungo Arrangiati Ma Cioè È fatti i tuoi È fattibile? Non lo so Fatti gli affari i tuoi Che significa? Non lo so Tu lo devi risolvere Non lo devo risolvere Io sto perdendo un sacco di tempo Solo a provarlo Non mi interessa No per niente Perché le devo anche provare le cose Eh ma tipo quanto ti manca? Tutto Tutto? Sì Cioè hai fatto solo un jump boost? No ho fatto un po' di percorso Ma me ne manca un bot È quello il fatto Eh ma Fede Rompere Io ho fatto una roba lunghissima Dai allora provo prima il tuo Vai Ok Così non la smetti Ciao Ti stai zitto Dove sei? Ah si parte a tutto da destra No Steph Dai non ho voglia Fa ste robe Da lì Tutto lì Dove? Da lì Manca Devi salire sul gradino e salti Esatto Ok 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 È felice così Hai capito qual è la tattica? Praticamente crei una parte lunghissima strafacile In modo tale che poi qualunque salto medio difficile Hai l'ansia di dover rifare tutto questo pezzo Ma non è ansioso questo? No Ti verrà l'ansia dalla seconda volta Ah ok Se lo fai Facendo cose psicologiche Se lo fai al primo tentativo Ok Ma dopodiché diventerà una roba che ti distrugge dentro Questa è la tattica Vedi? Stai iniziando a rischiare Ma stai zitto Steph Mi stai facendo via il sonno Eh beh Ha paura raga Ha paura Non la finirà mai Ok Quanto dura Ma Cioè Steph Vabbè È quella la tattica Vabbè Ok Ti diverte con poco Il bello è quello Che ti diverti con poco Quindi Va bene così Lo so Ok attenzione Arriva la seconda fase Ok No io odio i vetri Vai Adesso dovresti rifare tutto No 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 Aspetta Che fai? Parto direttamente da qui Non fa Allora non rifaccio tutto Te lo dico già Perché Cioè Anzi posso direttamente Fare sto salto Ah non me ne ero accorto Che è più semplice Ok Stai per sbagliare da solo Cosa c'è nella cesto Che è il jump boost Ma ne basta uno Boh Sì Dovrebbe Guardate come se lo scola Ok Ok Lì si cammina lenti lenti Ok Che brava Salti nel ghiaccio Scivoloso Eh sì Difficile E il jump boost Da fastidio È più difficile Col jump boost Vero Quello che ti dicevo io Cioè per qualche salto Può essere utile Ma dopo È un debuff Totalmente Totalmente Perché ti fa saltare troppo E quindi è difficilissimo Regolare il salto Ovviamente non si è abituato Sempre a saltare col jump boost Ho fatto un bel parkour Però no Carino sì No è impossibile È impossibile Te lo giuro Te l'ho detto È impossibile Te l'ho detto Cioè non so se puntare direttamente a quello dopo E fare un super mega salto Puoi provare Non so se riesci Non lo so neanche Perché l'ho provato troppo poco Anche io il jump boost Per capire queste cose Credo che stia anche finendo l'effetto Rischi di saltare E finisce E schiatti così No di pochissimo Oh non l'ho fatto apposta Ma è perfetto Non lo so Forse mi sono Mi sono bloccata io stessa Non lo so Ah dici Eh sai com'è l'ansia Vediamo Ci riprovo E tu pensa È finito l'effetto? Dover rifare tutto Ad ognuno di questi errori Ti senti soddisfatto? Sì È il parkour perfetto No non fa Non fa Non fa Quindi dovresti fare Basta finito Finito? Sì Ti sei divertita? Sì Vado a finire il mio Ok Se inizia a farlo Steph Così mi dici gli errori Dai non lo devo provare io Io inizio a provare Volevo provare un attimino Quel pezzo mio Perché ero curioso Autoprovo il mio parkour Dato che quello di fare Non è pronto No vieni Non è pronto Non è vero Sì è pronto vieni Se io faccio tipo da qua Ok È davvero difficile Raga è davvero 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 difficile Poi vabbè Io cado come un pesce O comunque Perché sono davvero scarso Però è davvero difficile Tipo Ui Ok Qua bisogna andare piano Non bisogna perdere la pazienza Perché altrimenti ci si autofrega Vediamo se si può bilanciare Ah sì dai Si poteva bilanciare comunque il salto Ok Bastava gestrarsela bene Di W ed S E te la gestisci Ok ce l'ho fatta a fare il mio Ok Mi sono autotestato Opla Opla Vieni a provare il mio Non lo so se è fattibile Quindi Cioè lo provi Mi dici cosa non va Io modifico Oh tu l'hai voluta Fa' sta sfida Quindi oggi la facciamo così Ma non è giusto Poi il mio è piccolino Perché io stavo pensando A dei salti seri Tu mi fai tutto un perco Ma te lo faccio anch'io No Fere Non puoi copiare la mia tattica Che è quella della miniatura È bello avere una tattica Che i consolini sanno dall'inizio del video Ma Fere no Perché ancora la miniatura non è fatta Quando noi registriamo È una figata Io ti frego Perché? Te li faccio vicini e più lontani Così ti intrippi e non capisci più nulla Beh ma quella è una tattica Che avevo utilizzato altre volte Ok E poi qua Non lo so Cosa posso mettere? Vediamo un pochettino Ok Allora andiamo a vedere Cosa ha fatto Fere per ora Ovviamente Viola Vai Da dove si parte? Da qua? Sì Ok Quindi ta 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 Per fregarti ancora di più Sono alternati Ta 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 È fattibile? Non lo so Forse con un jump boost Che adesso ti va da prendere Non lo so Prova Non ne sono sicuro Tieni No fa Ah ok Sì infatti l'avevo modificato E volevo Però credo sia più semplice Fare ta Ta Yes Ok poi devi andare lì Questo non fa Sì che fa Sicura? Forse l'ho provato col jump boost Sa che non mi ricordo Ma cioè Nel caso tieni Steph Eh ho provato tante cose Non mi ricordo più Col jump boost è fattibile Mi sa che non ha chiappa Lo sai? Sì 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 Guardami Vero? No no Io l'ho fatto Senza jump boost Col jump boost Quindi bevitelo Io ti sto dicendo Mi sa che senza jump boost Eh esatto È davvero impossibile No no lo prende Se no aspetta 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 Te lo posso allungare se vuoi Ma non è che Si modifica mentre lo fai Non funziona così Questa è nuova tecnologia Allora modificalo O devo usare il jump No shh Vai Guarda Perfetto adesso vai Ok Hai visto? Questi non so neanche se sono fattibili Non li ho provati Vedi tu devi testare questa parte Beh certo ma Sono vicinissimi Quindi certo Non lo capivo bene Ok E poi dovevo continuare Vedi mi sono fermata qui per ora Ok sì è tutto fattibile È troppo semplice Allora Fer ha perso oggi Non era Non era minimamente concentrato No perché mi hai destabilizzato Con quella fesseria Che hai fatto tu Cioè volevo costruire anche io Qualcosa di più bello Invece no Ma ancora quanto è lungo Cioè io vado fierissimo È un percorso gigante Ma proprio gigantesco Sembra quasi La custom map fatta da Steph Cioè Qua è una roba incredibile In ogni caso Qua sotto compariranno altri video Però la prima volta Steph ha vinto In un proprio modo Puro Diciamo È stata Sei come hai vinto Esasperando l'avversario Esatto Però anche questa è una tecnica Esatto È una tecnica Quando perdi 5 volte di fila La tecnica dei falliti Come Steph Ma è forse È una tecnica Lo fai dopo che perdi 5 volte di fila Però ha funzionato Secondo me è anche bellino il percorso E sono soddisfattissimo Qua sotto altri video Iscrivetevi al canale Se l'avete fatto Cliccate la campanellina E ci fermiamo così